Allora, attenzione, siamo in diretta, non mi sono manco cambiato, siamo assai più a trovare, guarda, c'è un'invasione di gente, guarda, guarda, ma bellissimi, ma come ci gasa questa cosa qua, adesso i console che abbiamo, aspetta un po' che giro la tua camera, c'è Manu, c'è Manu, c'è Manu, Manu, ci sei te. Dai che ci piace, aspetta, perché il microfono non va, me l'ha azzerato, va bellissimi, sono stati bravissimi, allora questo è il primo appuntamento della fantasia, no, il secondo, il secondo. Allora, siamo in console, con Gio, guarda qua, guarda qua, c'è口one, guarda qua, Manu, com'è, si è statunitato, vai, saluta, 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 allora, stiamo facendo unRPB, veramente, c'è un'invasione, veramente, ma noi ci piace, vai, insettle bicky, perché c'è la musica. Senti, senti, senti. Allora, mi ha lottato un attimo, bellissima, eh. Mi raccomando, la puttamento, la festa della fattata. Pensavo ci fosse la fattata. No, ce n'è, ce n'è, ce n'è, ce n'è, veramente. No, affatti gli scherzi, ce n'è. Aspetta che c'erano l'altro in camera, no. No, ce n'è, veramente, eh. Sono tutti là, eh. Mi raccomando, l'appuntamento, poi. No, dicevo, l'appuntamento, mi raccomando, va in sera per i vicini amanti. È una bellissima sana. Allora, si stava facendo un culo, mi hanno osservito, come era, come era il mangiare i maranassi, ho mangiato bene, che sì, è bellissima, vedete. Sono bravissime, veramente. Adesso facciamo comedia, fino all'una, poi dobbiamo staccarlo. Però è bello, è bello, mi piace, mi piace. Siamo in diretta, eh. San Pietro Vara, eccolo qua, vai. Vai giovedì, vai giovedì. Allora, attenzione, domani sera qua ci sarà la lanteria, è tanta roba su questo palco qua, quella bella iocca, la lanteria, è tanta roba. Noi saremo dall'alpino, ci mangiamo dei paligalli e vai, suonai, no, eh. Comunque stasera è una bellissima serata, eh. Mi piacente, eh. Ok, ok, ok. Per diretto, non riesco a leggere, aspetta. Nadia Zappettini, ecco. Ilaria Lavagino, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Roberta Ferroncini, eh. Noi siamo qua, eh. A fare comedia, a sapere trovare. Se non fate l'amore, vinte da noi, ce la fa stare la fantasma, vero? Ehi, ehi, ehi. No, mi piace, mi piace, la comedia. Ma ci abbiamo anche il gazebo stasera, vai, ringgiuo, vai. No, mi piace, mi partecipi della comedia, vai. Dai, ci vediamo domani sera. Per tutti i colori che sono stati a dormire giovedì. Togliamoci l'estate, ragazzi. E poi, non si sa, eh. Quindi è un momento buono per godersela, eh. Togliamoci nel buonino. Ciao a tutti. Dai, stacco qua, guarda. Senti che musica. E la balliamo anche, vai. Buonanotte a tutti. Grande.